Ok, Joe, si è chiuso in bagno, mi sa cosa sta facendo, Joe Meanwhile A me a tutti, raga, un abbraccio Da Lod3 e 3 E abbiamo fatto in questo nuovo video Sono qui con JoePic Ma salve Siamo qui di nuovo su GTA Aspetta, Joe, che cazzo stai facendo? Che cazzo hai fatto? Andiamo a vedere cosa ha fatto Joe Andiamo a vedere cosa ha fatto Joe Andiamo a vedere cosa ha fatto Joe Che hai fatto Joe? Che hai fatto? È ucciso il vecchio signore Joe Che si fanno questa cosa? Ci metti un cazzotto in faccia Ci metti due cazzotti di merda 2, 3 Comunque questo video l'avete scelto voi Nei miei sondaggi, nelle storie su Instagram Comunque raga avete preferito tantissimo GTA piuttosto che Rocket Circa 100 voti in più E quindi io e Joe vi accontentiamo no? Ecco raga, ecco questo è il lusso Questo è il lusso Champagne è un... Non capisco che cosa è Un... Booking Swift Vabbè Allora Ah, navica in rete Qui c'è internet Bro, c'è internet Lo sai perché ti dice navica in rete? C'è internet Perché? Perché siamo sul mare Allora faccio due Spigliettato sto provando Sto provando a parcheggiare Allora metti in terza persona Sono già in terza persona Ma... Eh, eh, vabbè Joe Vabbè Joe No! Ok Che stai facendo? Scendi, scendi Siamo arrivati Vabbè Joe M'è un po' distrutto Vabbè Ricotta Direi Allora Perché non c'è il casco? Aspetta, perché non c'è il casco? Non capisco questa cosa Perché non c'è il casco? Allora entriamo prima Aspetta, cosa? Ok Joe Spengami una cosa Ok, fermati Guardami Guardami Guarda con un secondo Ok Ok Uno, due, ok Poi Guarda Joe Non ti fa qualcosa di strano Ehm I vestiti dove vanno? Ok Ok, allora Dietro ci sono i motoscafi Giustamente Proprio per Attaccare in porta E cose varie Giusto Joe Eh, tu L'eroglio Tu devi cazzare Tu approvi sempre Che ne sono io Ok, saliamo ovviamente Con i led ovviamente Che è il lusso Qui c'è una bella piscina D'idromassaggio Ok, qui una valigetta Una radio Perché c'è questa radio Cioè, raga C'è questo yacht di lusso E poi c'è questa radio Di anni 80 Guarda Joe Spizio Che salvo io Aspetta Fuori l'uomo Questa radio Vabbè, lasciamo stare Ok, lasciamo stare Andiamo, andiamo Oh No Joe Volevo sparare la radio Eh, no Ma mi viene a prendere Joe Ma mi viene a prendere Mi tre No No, no Sono arrivato qui Entra con amici Compagni Criu Ecco qua Buonasera Buonasera Ok Eh, sei entrato? Sì Ok, a posto Ma non so perché Siamo magnumus Ma sono Arance Mandarino E mela Ok, vabbè Ma ci possono mangiare Quando ti temi dietro Non penso Ok, Joe Guarda Guarda che cosa raffinata Guarda Guarda che raffinatezza Guarda Andiamo E sono pure arance vere Non sono finte Che raffinatezza Ok, allora La probabilità per i settimane Però sono vere Ah, bellissimo Allora Allora, questa è la mia stanza Cioè Solo questa stanza è più bella della mia casa Lasciamo stare Comunque, allora È bellissimo comunque Guarda che lusso Guarda Guarda che lusso Mamma mia Ok, questa è la sua stanza Dove è la mia? Dove è la mia? Ciudiamo il bagno Ok Dove è la mia stanza? Allora, questa dovrebbe essere la mia stanza Dovrebbe essere Eh, vabbè Comunque Ok Usciamo fuori Andiamo a destra Guarda là, guarda Davanti è bella Davanti è bella Mamma mia Ospiti Chissà che è un ufficio È un ufficio mio, sì Qui registro il video No, aspetta Ok No, aspetta No, aspetta Guarda sta cosa Cioè Che cazzo è? Cioè, questa è la stanza dove mi pettino? Cioè, che cavolo è? Vabbè Lasciamo stare, ok Ah, sono collegate queste due stanza Vabbè, hanno capito che io sono un po' narcisista Il gioco Lo capito subito Giù che si rufotte le mie armi Oh, un'altra stanza Io penso che questa sia la stanza di ospiti Giù Questa è la tua stanza Sei contento? No, no, no Allora, la mia stanza te la lascio vedere quale è Vieni Qual è, qual è? Vediamo, vediamo Questa qua è la mia stanza Questa? Eh, eh, eh Ti facerei Beh, Giù Ok, non so perché abbia tre camion da letto Ora lasciamo stare Ok, Giù Sei chiuso in bagno Chissà cosa sta facendo, Giù Meanwhile C'è un po' di erba, Giù Non dire altro Non diamo il brutto esempio, Giù Andiamo, allora Lì c'è un bar Bellissimo Ciao Ciao bella bionda Mi dai un drink Guarda, Giù Come scrocco, guarda Come scrocco, sto Giù Vabbè, vabbè Non me lo bevo Non posso bere E ora per uscire Dove fare tutto questo macello Devo andare due indietro Cioè, almeno potremmo mettere una porta No, giustamente Non mettere una porta Eh, ma che vuoi Per 9 milioni, eh Vabbè, Giù Andiamo, andiamo Corri, corri, corri Vabbè, lì c'è solo un corridore Noi ti andiamo a vedere Qui c'è sopra la piattaforma Ma se mi puoi anche entrare qua dentro No, non si può entrare Vabbè Vabbè Ok Ok Terminieri, vabbè Lasciamo stare Ok, qua la piattaforma dell'aereo Fatto bene Giù, perché mi hai rutto l'aereo No Giù Tu lo sai? Devi fare una brutta fine Pappa acceso Devi fare una brutta fine acceso Devi fare Aspetta No Perché scomparse il corpo? No, Giù No Dove stai? Sei qui? A posto, a posto No Dai Ma cosa è qua? Aspetta, si può entrare in un'altra parte qui Non mi ricordo Non ho mai visto questa parte Giù Vieni qui Dove sei andato giù? Vabbè Sei incappato lì Ok, allora Non ho mai visto questa parte Bastardo, pezzo di merda Allora, vieni qua Qua sono i divani, giustamente Allora, fammi entrare Fammi entrare Aspetta Allora, tu non puoi entrare, mi sa Ma come non posso entrare? Mi sa che non puoi entrare Perché non posso entrare? Giù, mi sa che non puoi entrare No, non puoi entrare, Giù Mi spiace Mi spiace, questa è zona privata Non puoi vederla, mi spiace, Giù Non puoi entrare Devi stare fuori, Giù Eh no Devi stare fuori, Giù Allora, questa è la sola comando Sì, c'è la sola comando Infatti c'è tutta la mappa Il mio yacht Vediamolo, sposto giù Io dirò sì Andiamo al nord E io che ci sto sopra Che a fine Andiamo Dove ci troviamo? E guarda Ah, in mezzo al niente Aspetta, non mi ricordo Dove l'ho portato Qua ci dovrebbe essere Un altro aereo Poi nulla Non c'è nulla Non ci possiamo vedere Sì Sì, sediamoci, Giù E godiamoci un po' della fresca Giù, allora Tu che dici? Non mi dico, non mi dico Allora, questa cosa No, per me Due milioni è già troppo Ma è meno Alla fine non puoi fare un cazzo In questa cosa, Giù Cioè, non puoi fare Aspetta Che sta scritto qui? No, aspetta Sta scritto un'opzione Aspetta, fermati Ok Sporgetta la miniera Perché? Ah, allora sì Li vale 9 milioni Ora sì che li vale 9 milioni Sì, sì È bella ragione Vale 9 milioni Sì, vale 9 milioni Perché puoi sporgerti Guardare Il paralama Guarda giù Guardavoli in prima persona Giù Comunque raga Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Ricordate di attivare la campanellina Ci vediamo in un prossimo video